Ciao ragazze, nuovo video outfit, vi faccio vedere al volo l'outfit di oggi che è martedì ed è un outfit che non so se vi piacerà perché è un incrocio di fantasie un pochino azzardato credo che nel pomeriggio mi cambierò quindi ci sarà un doppio outfit perché ho freddo nel senso che sta freddo, c'era il sole, adesso è andato via e metterò su qualcosa di un po' più pesante magari sopra quindi ne approfittavo per farvelo vedere ho usato questa spila per chiudere la camicia perché ne mancava un bottoncino non so come sia possibile, una bella camicetta così di Primark che avevo preso nell'usato chiodo di pelle color oro e questi shorts di Stradivarius che mi piacciono un sacco sembrano una gonna ma in realtà sono dei pantaloncini quindi una gonna pantalone corta e l'outfit è molto semplice, sotto ho degli stivali come orecchini praticamente ho questi dorati li ho presi su Primark, li ho presi su Amazon con il buono, è passata una ragazza a salutarmi e aveva detto questa è matta che parla da sola, vabbè se no si abitueranno anche loro i miei vicini non mi spiano più e ho messo questi stivali qua che avevo preso da Via Maestra con gli sconti quando stavo chiedendo il negozio, sono molto carini, sono in camocio comodissimi, bash, l'unico problema che hanno i lacci che sono tutti così un po' alla deriva mi piacciono comunque abbinati con questo tipo di outfit e come a borsa la mia Cavalli, questa qua, Giastravalli che avevo preso, vediamo se riesco a farvela vedere l'avevo presa all'inutile, il negozio dell'usato che c'è a San Paolo d'Argon si, su Perala Orio, verso Bergamo ragazzuare spero che il video vi sia piaciuto, taglio corto perché è tardi vedete l'orologio, cioè io avrei dovuto finire alle 12 quindi sono già fuori orario ci vediamo nel prossimo video, ciao! anche perché cioè forse oggi vi farò un'auto di nuovo perché tutti questi straordinari mica sono pagati quindi via del negozio, vi salutiamo, ciao! vabbè sono un'idiota, ok, ciao! vabbè sono un'idiota, ok, ciao! Grazie a tutti